Stai rifacendo ancora la solita? Sì, sì, buonissimi in scuola È sempre più minchioni ci sono fatti avanti Grazie Grazie C'è anche Sanpei, se vedi bene Sì, è schifo che vuoi più rad Ah, vuoi più rad Non ho capito Ecco tutti che fanno Hai fatto il video Thor Fin Questo va messo subito ragazzi C'è da ridere No, una cosa bella che ho visto Che funziona anche il raid del sync Cioè uno potrebbe fare un 24 strumenti Penso che si blocchi tutto Ah sì, solo in fellowship No, la facevamo anche il raid prima No, no, fellowship per forza L'inchino tutti insieme Mi raccomando Adesso facciamo il salto Bello Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Grazie.